Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo ha sospeso l'apertura anticipata della caccia fin dal 1 settembre e dell'addestramento dei cani sin d'agosto. La stagione venatoria prenderà quindi il via il prossimo 18 settembre, come dal regolare calendario. I giudici hanno anche sospeso la caccia alla tortora e al coniglio per l'intera stagione venatoria. Accolto dunque il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste quali EMPA, LACLEG, Ambiente Sicilia, LNDC Animal Protection, LIPU e WWF Italia, le quali avevano sostenuto l'illegittimità del calendario venatorio, sostenendo la presenza di violazioni delle normative nazionali e comunitarie sulla tutela della fauna e per il mancato rispetto del parere scientifico dell'ISPRA, l'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale. Secondo le associazioni ambientaliste non ci sarebbero state le condizioni per anticipare la caccia e andavano accertate in maniera più precisa le quote sugli abbattimenti e il prelievo venatorio della tortora e del coniglio.